Stiamo lavorando a proposito i tamponi e i screening sulle scuole. Voi sapete che abbiamo approvato un'ordinanza che prevede la possibilità di riapertura degli asili, delle prime, mi pare, per le elementari. Ma abbiamo subordinato questa eventuale apertura ad un accertamento epidemiologico. Qui potrei farvi sorridere perché voi sapete che quando abbiamo chiuso le scuole, apriti cielo. C'è stata una rete televisiva nazionale che praticamente ha sponsorizzato le manifestazioni delle mamme. Poi andavamo a vedere, le mamme non c'erano. Dieci persone disponibili a mettere un cartello in alto, le troviamo sempre. In questo momento abbiamo un'ondata di richieste per non aprire. Cioè i genitori sono sinceramente preoccupati. Allora, la riapertura, mi pare, per il 24 era una previsione. Ma noi non apriremo nulla se non avremo la sicurezza dal punto di vista epidemiologico. Mica abbiamo voluto scherzare in questo mese. Abbiamo scelto una linea di rigore e di tutela della vita dei bambini, delle loro famiglie, dei loro compagni di scuola. Manterremo una linea di rigore. Quindi, non voglio anticiparvi nulla, ma è possibile, forse è probabile, che non si riapra quando abbiamo previsto di aprire. E comunque non riapriremo nulla se non abbiamo certezze dal punto di vista sanitario. Il lavoro è in corso, probabilmente andremo con questo screening anche oltre la data prefissata come data possibile di riapertura. Andremo probabilmente ad una proroga anche di questa data, ma in ogni caso tranquillizzo tutti quanti. Non apriremo nulla se non abbiamo condizioni di assoluta tranquillità. Punto.